La Coppa Interamnia 2016 inizia a prendere corpo. La 44esima edizione dell'Interamnia World Cup ha mosso i primi passi ufficiali dopo la conferenza stampa di presentazione di venerdì. Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare un'impresa. Ha esordito Pierluigi Montauti, considerati pesanti carichi che sembravano impedire lo svolgimento della Coppa. Le adesioni giunte da tante squadre ci hanno spinto nuovamente a ripercorrere questa meravigliosa avventura. L'edizione numero 44 ha avuto il sopravvento sulle nubi minacciose e sulle difficoltà e problematiche di varia natura, che sono state spazzate via grazie al coraggio e all'impegno di tutti coloro che amano e sostengono la Coppa. Tutti hanno fornito un contributo importante e la Coppa continuerà a vivere nonostante i tanti disagi. La prima compagine è giunta insieme ai due arbitri a Teramo giovedì. Sono Uzbeki. In totale saranno circa 130 le compagini protagoniste a Teramo nella settimana della Coppa, in rappresentanza di ben 41 nazioni. Il Pakistan, le isole Comore e il Bangladesh non hanno ottenuto i visti necessari per raggiungere il capoluogo aprutino. Anche quest'anno l'Inter Amnia World Cup rappresenterà un enorme e variegato contenitore di eventi e spettacoli. Arte, cultura, società e sport declinate in varie forme renderanno ancora più peculiare la Kermess 2016. La musica reciterà un ruolo fondamentale attraverso un interessante programma che impreziosirà le serate Teramane, allietando il pubblico sotto la direzione artistica dell'orchestra contemporanea del maestro Tony Fidanza e della Scuola Fare Musica di Nicoletta D'Ale. Non mancheranno melodie etniche che avvolgeranno le vie e le piazze della città. La Coppa, inoltre, rappresenterà ancora una volta un prezioso strumento per affermare e dar voce ai diritti umani, sensibilizzando la collettività con pregevoli iniziative. Nell'ottica della sinergia costituita lo scorso anno con l'Università degli Studi di Teramo e del suo processo di internazionalizzazione, sarà costituito un team che annoverà studenti stranieri universitari e dell'ultimo anno delle superiori, con l'auspicio di permettere ai partecipanti di proseguire il proprio percorso di studi a Teramo. Il primo appuntamento, intanto, è fissato per martedì 5 luglio, alle 20.30 con la grande parata inaugurale. Quest'anno, complici i lavori di restauro di Corso San Giorgio, il percorso sarà parzialmente rinnovato. La sfilata, infatti, muoverà i suoi passi da Corso dei Michetti, per poi dirigersi verso Corso Cerulli, Piazza Orsini, Via della Verdura, per raggiungere il grande scenario di Piazza Martiri della Libertà.